Andiamo a casa. Dai vicini. Vado io o vai te? Oddio. Due team. Andiamo a casa diretti? Casa, casa, casa del dolce casa. E uno dietro. Stupido. 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 Ne avevo uno dietro e mi stava sparando e non mi ha mai colpito. Ma che cazzo è che ho sparato da dietro? Stupido. Stupido. Stupido.